Musica Essere a Soveria 2017 Anche quest'anno parte la fantastica avventura per tutti i mesi di agosto e forse anche nei primi di settembre All'insegna della cultura, all'insegna dell'enogastronomia, all'insegna dello spettacolo Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo che arriverà tanta gente a Soveria a gustare le prelebatezze A gustare i libri, a gustare le serate dell'Università d'Estate Grazie 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 Grazie